Se t'attesi è la buona notizia in casa Inter, quella negativa è Marco Arnautovic. Come detto più spesso il dislivello tra i due attaccanti titolari dell'Inter e quelli che sono dietro è abnorme, ma nella gara col Verona è stato veramente imbarazzante. Arnautovic entra al posto di Turam, che era stato tra i migliori in campo nella partita e fa tutto quello che di sbagliato si può fare. Falle in attacco, in comprensione con Cialanoglu su una palla verticale, perde il pallone da cui nasce l'1-1, toglie un gol probabilmente a Pavarra e se ne mangia uno incredibile sull'assist a un metro dalla porta di Acerbi. Insomma, una partita da 4 in pagella, seppur con pochi minuti giocati.